Hai mai pensato a quanto possa essere delicato il confine tra privacy e curiosità pubblica? Cosa succede quando una foto segretissima di una leggenda sportiva finisce online contro la volontà della sua famiglia? Restate con noi per scoprire di più. Nel panorama globale dello sport, alcuni nomi risuonano con un eco che trascende generazioni e confini. E Michael Schumacher è senza dubbio uno di questi. Sette volte campione del mondo di Formula 1, Schumacher ha ridefinito il concetto di eccellenza nel motorsport, lasciando un'impronta indelebile nella storia della competizione. Con la sua abilità ineguagliata, il coraggio e la dedizione, Schumacher è diventato un'icona, ammirato da milioni di fan in tutto il mondo. La sua carriera, tuttavia, è stata interrotta da un tragico incidente sugli sci nel 2013, che lo ha lasciato in gravi condizioni. Da quel momento, la sua vita e il suo stato di salute sono stati avvolti in un manto di privacy assoluta, con scarse informazioni ufficiali rese note al pubblico. Questo silenzio ha solo alimentato la curiosità e la speculazione, rendendo ogni dettaglio su di lui ancora più prezioso e ricercato. Immaginate quindi lo shock e la sorpresa quando, inaspettatamente, una fotografia di Schumacher, presumibilmente nel suo letto di malattia, è comparsa sui media internazionali. Questa rivelazione ha mandato ondate di shock attraverso la comunità sportiva e oltre, sollevando una tempesta di domande sulla privacy, l'etica e il rispetto dovuto non solo a una figura leggendaria dello sport, ma anche a qualsiasi individuo in una situazione tanto vulnerabile. Questa foto, diffusa senza il consenso della famiglia Schumacher, ha aperto un dibattito acceso sull'intrusione dei media e sulla fame di informazioni del pubblico riguardo le vite private delle celebrità, specialmente in circostanze delicate. Prima di continuare, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa situazione. La privacy di una figura pubblica dovrebbe essere protetta a tutti i costi o il pubblico ha diritto a sapere. La questione centrale diventa quindi dove si traccia la linea tra il diritto del pubblico all'informazione e il diritto alla privacy di una persona, soprattutto in contesti di salute delicati e personali? La situazione di Schumacher, con questa improvvisa e sconvolgente rivelazione, ci ricorda quanto siano fragili le barriere che proteggono la nostra vita privata nell'era digitale e quanto sia importante mantenere un equilibrio tra curiosità e rispetto. Il dibattito sollevato da questo episodio invita a una riflessione più ampia su come gestiamo e percepiamo le informazioni in un mondo sempre più connesso, dove la privacy sembra essere sempre più sotto assedio. Se questa storia vi ha toccato, non dimenticate di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdere gli aggiornamenti su questa e altre notizie. Secondo le voci, la responsabile sarebbe Cora Brinkman, l'ex moglie del fratello di Schumacher, noto per passati turbolenti legati alla violenza domestica. Cora, che avrebbe dovuto mantenere il silenzio sulle condizioni di salute di Michael per una clausola specifica, sembra aver lasciato sfuggire l'immagine che ha suscitato un'ondata di indignazione e speculazioni. La situazione si complica con l'uscita di Cora da un reality show tedesco, inizialmente attribuita a problemi di salute, ma poi sospettata di essere una mossa preventiva per evitare potenziali rivelazioni sullo stato di Schumacher. Questo atto ha sollevato ulteriori domande sulla quantità di informazioni che Cora potrebbe effettivamente possedere. Prima di concludere questo video, dobbiamo precisare che la foto in questione, C, risulta essere un fake, e deve essere un'avere di Gile La foto in questione era un'unica che... di queste cose è molto importante di questo motivo... ... Grazie.